E invece non scivoliamo proprio da nessuna parte perché sul cucuzzo della montagna non ci potete andare e se ci potete andare non potete sciare, potete sciare al massimo nel tinello di casa vostra se avete le attrezzature adatte, potete mettervi gli sci e farvi così la pista in casa e se avete certe case come alcuni artisti di quelli che vi invitavano a essere buoni e stare bravi dentro invece altrimenti a sciare non ci potete andare, ci vanno gli svizzeri, si può sciare in Svizzera ma qui no perché così è deciso il governo, il governo che in questi giorni sta dando veramente il meglio di sé sulla emergenza Covid e sul Natale, ad esempio ieri è successa una cosa che io ancora tento a credere che sia realmente accaduta perché c'è un ministro, un ministro a cui vogliamo iniziare così rompendo un po' la nostra liturgia vogliamo subito dargli un premio perché se lo merita, se lo merita è quello che se lo merita di più di tutto il 2020, cioè non abbiamo neanche insomma non abbiamo parole per esprimere i riconoscimenti che si merita ma adesso gli diamo il nostro piccolo premio per iniziare così questa puntata con un momento importante premio virologo di legno e allora il premio virologo di legno lo diamo al ministro agli affari regionali Francesco Boccia ma questo è un premio veramente speciale alla carriera oserei dire non solo per questa settimana vale per tutto l'anno perché parlando della messa di Natale e la messa di mezzanotte il ministro Francesco Boccia è riuscito a dire la seguente frase seguire la messa e lo dico da cattolico due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia ecco io mi domando come un ministro della Repubblica possa arrivare a dire una cosa del genere probabilmente Boccia crede di essere il papa no si chiama Francesco anche lui e si è così si è un attimo montato la testa cioè far nascere Gesù bambino due ore prima perché lo decide il ministro degli affari regionali cioè a questo punto siamo arrivati questa è una cosa che magari ci può anche far ridere no perché così è talmente grottesca talmente folle che insomma suscita quasi un riso isterico e però questo è il segno di un'ingerenza nelle nostre vite e in ogni ambito dell'esistenza che fa veramente veramente spavento cioè si arriva a sacrificare sull'altare della presunta salute no la salute intesa come funzionamento del corpo come come se fossimo delle macchine noi dobbiamo funzionare e preservarci da ogni impedimento e continuare a produrre ecco persino Gesù bambino può essere fatto nascere due ore prima io non so non ho parole se le avete voi e volete chiamarci intervenire in diretta noi vi aspettiamo vi invitiamo a partecipare io intanto do il benvenuto a Renato Cristin buongiorno professore buongiorno dottor Borgonovo caro Francesco come stai io sto bene sono la differenza di altri abbiamo iniziato professore la trasmissione intanto mi lasci introdurla anche se gli ascoltatori di rpl la conoscono la conoscono già molti di loro Renato Cristin è un una voce devo dire come si può dire fuori dal coro è un filosofo è l'autore di libri importanti come io ricordo i padroni del caos edito da liberi libri che è un un saggio sul di fatto sul globalismo no spiega perfettamente come funzionano i meccanismi della globalizzazione e chi è che comanda la globalizzazione io professore resto allibito quando sento un governo che riesce a dirmi Gesù bambino può nascere due ore prima cioè non è solo una questione di offesa per i cattolici no cioè una follia da ogni punto di vista è proprio un come dire uno stabilire la supremazia del del governo su ogni ambito della vita compreso lo spirito io lo trovo una cosa allucinante sì sì oppure tanto che è difficile trovare parole adeguate perché non si tratta neanche di supremazia di un governo ma di supremazia e di lagare della stupidità e questo è il dato più più preoccupante una stupidità proprio nel senso come dire oggettuale cioè rispetto alle cose rispetto ai problemi e alle cose ma ma credo che sia un un dato di fondo che appare in questo modo si manifesta così oggi in questa circostanza ma che potrebbe manifestarsi in altre forme con la stessa essenza e cioè la idiozia ma ripeto idiotese esotecnico è proprio l'idiotes con il quale non 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 riesce davvero a guardare a comprendere le cose diciamo che sia pieno di tecnicamente idioti ce ne stiamo un po accorgendo insomma lo diciamo così con massimo rispetto è tecnicamente sia chiaro però in questo senso esattamente no no tecnicamente proprio pur sempre idioti sì ma guarda io non sono non sono un epidemiologo non sono un virologo e quindi posso e non voglio parlare di questi aspetti diciamo del problema cioè della circostanza in cui diciamo stiamo stiamo vivendo oggi che è dominata dall'epidemia ma non sono nemmeno un giurista per cui voglio dire anche dalle implicazioni normative voglio assenermi entro certi limiti e posso guardare la cosa la circostanza cioè soltanto dal mio punto di vista che è quello filosofico è per la precisione fenomenologico cioè cerco di capire di vedere in che cosa consistano le strutture essenziali proprio l'essenza o l'essente della situazione attuale e io vedo davvero tu hai citato mi permetto di continuare a darti del turno la formalità del contesto lo avevi citato in pochi istanti fa il libro il padrone del caos ma guarda la situazione attuale secondo me è un caso tipico di quella di quella teoria che appunto avevo elaborato allora quando tu hai un quadro politico anzi geopolitico e geoculturale occidentale che è sotto pressione da spinte ideologiche che sono tra l'altro poi sempre le stesse da almeno 50 anni quelle onde lunghe sessantottine che poi sempre come le onde appunto si riproducono pur trasformandosi e così via e quando hai pressioni di questo genere tipo ideologico pressioni di carattere mega speculativo macro speculativo e io credo che quel quadro si fantuma quando sopraggiunge un evento catastrofico come per esempio nel caso del libro che hai citato l'ipotesi della immigrazione di massa in Europa oppure guardando al presente un evento epidemico globale come appunto il coronavirus questa è la mia impressione diciamo così iniziale ecco professore lei ha detto una cosa insomma interessante io non sono un virologo non sono un epidemiologo e quindi non parlo di questi argomenti però i virologi, gli epidemiologi e tutti i medici che abbiamo visto parlano di qualunque argomento si permettono di sindacare su qualunque aspetto della vita e così fa il ministro degli affari regionali che si permette di sindacare persino sul momento in cui può nascere Gesù questo mi sembra una parte del problema anche una forma di grande arroganza